e il bello della diretta dovevamo avere Gianni Bella e invece no abbiamo un altro cantautore bene io sono Maurizio DJ vi parlo qui dallo studio zero della rete di Ferrara oggi sono emozionato avevo Gianni Bella e invece purtroppo non c'è non c'è e invece abbiamo un altro cantautore da letteralmente radio una radio con tante radio dentro sabato 14 marzo 2020 oh che bello sono veramente contento oggi ecco sperando che ci sia una linea libera veramente perché è un'impresa ardua oggi trovare una linea libera e forse se siamo fortunati dovrebbe essere libero non Gianni Bella purtroppo anche se oggi è il suo compleanno facciamo tanti auguri a Gianni Bella e ecco il nostro regista mi dice che abbiamo il cantautore in linea oh che bello che bello che bello veramente sono contento finalmente sono contento visto che io ho fatto tantissime volte ecco con questo ragazzo il moderatore lui non fa solo televisione non fa solo radio lui è invece come si chiama lei? io mi chiamo Manuel Osteri ciao 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 come stai? eh vabbè Maurizio sta bene dai cerchiamo non è proprio in casa è qui dallo studio zero dirette Ferrara che è bello bello perché negli alberi ci sono i merli c'è questo fischiettio che io te lo farei sentire solo che purtroppo non ci possiamo affacciare oltre perché sai per quello che c'è allora caro Manuel ciao ciao grazie intanto per questa intervista è un piacere sentirti io ti faccio subito ti dico subito che sono sempre come dire onorato quando a tua volta ti colleghi sempre con noi su Punto Radio sei davvero straordinario ascolta e adesso non per dire ma dove sei ora perché ti sento in viva voce non so se sei nel tuo centro di produzione no sono sono con l'auricolare dovresti sentirmi benissimo teoricamente ma sono se c'è un rientro un ritorno sì no scusami ma perché qui abbiamo gli imbianchini io non riesco a passare perché volevo farti sentire il merlo in diretta ma io sto scavalcando ma questo è il bello della diretta pensa solo che oggi è il compleanno di Gianni Bella e dovevo averlo a breve e purtroppo il suo manager non so saranno tutti impegnati gli fai gli auguri prova a cantare tanti auguri a Gianni Bella ma guarda io ti farei non gli applausi elettronici ma gli applausi manuali veramente sei un grande guarda io posso dire che comunque posso dire questa cosa nel senso che mi fa piacere che oggi si è al compleanno di Gianni purtroppo è una persona che non ha avuto delle misavventure molto molto grosse quindi lui fisicamente fa fatica a parlare insomma però è lucido e cosciente dopo quello che ha avuto ecco insomma sì diciamo che non è una forma di emotività spiccata è perché purtroppo è un problema di salute infatti questo è vero hai una tua canzone purtroppo oggi abbiamo pochissimo tempo e cos'è non so il repertorio cioè abbiamo gli imbianchini guarda ci stanno festeggiando non capiscono chissà come verrà dipinto il nostro studio mi sto già preoccupando il bello della diretta è questo alle 15 prego prego proprio oggi che c'è l'obbligo di stare in casa avete gli imbianchini no ma è bello è questo capito sono solo le ore 16 09 minuti primi 26 secondi e 36 decimi sono emozionato anch'io è la prima volta non capisco perché è un artista è inutile all'ombra delle due torri lui nei portici di san luca abbiamo la san luca sound sì 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 noi siamo esattamente hai dipinto bene la situazione diciamo esattamente sotto i porti qui in san luca e sotto diciamo nel nostro come dire nel nostro spazio che è attaccato dove io abito quindi la san luca sound è esattamente qui dove sono io nella mia chiuso in casa perché io resto a casa ma scusa fammi capire io sono emozionato tu che fai tantissime trasmissioni eventi ti sento è emozionato teso sai stare in casa ci fa male no 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 assolutamente assolutamente sono assolutamente contento di parlare con te sono assolutamente sereno perché teso sai che cosa c'è adesso è stanco quello è un altro discorso sono stanco ti dico molto stanco perché sai in un potere ti accorgi che cosa vuol dire che cosa vuol dire la libertà che cosa vuol dire stare bene che cosa vuol dire non avere paura che cosa vuol dire guarda io ti faccio un esempio il film nata libera la libertà tu hai detto bene la libertà dice tutto ti ricordi il film dei lioncini quando loro Elsa no no non ti ricordo quello non lo ricordo non ti ricordi Elsa che l'hanno vissuta come fosse un bambino da piccolo ma in gabbia era in libertà girava nella casa di loro eccetera e poi l'hanno lasciata libera perché è uno zoo eccetera eccetera una storia lunga è così il mondo materiale è strano come tu ieri che mi hai trasmesso al buio sotto i portici ecco io sto scalvalcando gli imbianchini qui che è tutto un caos oggi un attimo che facciamo sentire ecco adesso chiudiamo tutto ecco questo è il bello della diretta eccoci no io oggi ti dico l'azard il miei quando ho fatto quel micro flashmob era molto semplice io ero scusami mi sta dicendo l'azard che ci sono anche i fotografi benissimo ne abbiamo tutti vai pure avanti ma oggi sei conosciuto sei conosciuto sei un fan cioè sei un mito forse ti avranno visto in televisione io non lo so complimenti no 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 sei troppo buono io quello che ti posso dire è che ieri ho voluto comunque dire io ci sono ed era da fare fuori io ero nel mio giardino ero nel mio giardino e quindi non c'erano le luci in quel momento perché non mi sono collegata alle sei perché non potevo alle sei mi sono collegata alle sei e mezza e le luci non sono ancora accese e ovviamente era buio prometto che nei prossimi giorni farò qualche cosa da casa ovviamente in versione così non viene quello che possiamo fare tutta la voce sicuramente farò qualche altra diretta perché in questi giorni qua c'è bisogno di riempire il tempo di farlo passare di inventarci qualcosa cioè per me e adesso io quando ti saluto ci sarà l'evento della giornata che è quello di andare qui fuori a buttare la spazzatura e rientrare in casa capisci come come siamo ecco questo questo è semplicemente per dire che noi abbiamo bisogno in questo momento di compagnia e quindi penso che chi canta chi suona chi si collega con facebook insomma sia anche un modo per così condividere questo tempo libero tutti insieme guarda io sono parole commoventi quelle che dici perché guarda mi fa venire la pelle d'oca perché io immagino te ad esempio che ieri con la tua chitarna magari da un balcone suonavi all'esterno che la tua voce si sentiva tutti i palazzi poi se c'era vento anche oltre come succedeva una volta con le televisioni micro ecco e pensare magari sotto che c'era Diana ecco Diana che non è la dea della caccia ma chi è Diana svegliamo il segretuzzo Diana è la nostra è la nostra fashion blog è la parte diciamo femminile della nostra transmissione ed è con lei che da ormai quasi quattro anni tre anni e mezzo quattro anni è con noi sono quattro anni noi sono cinque anni che andiamo in onda il primo anno siamo andati in onda praticamente in maniera diversa io Sebastiano un altro ragazzo poi dopo è subentrata Diana e dopo è subentrato Abele e siamo rimasti in quattro cioè sono i quattro moschettieri che non so mai capito se sono tre o quattro c'è Ara mister però ecco siamo i quattro che ormai tipo i quattro di Nova Orlandia con Abele Diana che secondo me boh è una star come definirla è bellissima ma è sprecata forse anche da fare la fotomodella da Via Monte Napoleone cioè veramente beh glielo farò glielo dirò ovviamente adesso è la prima occasione che avevo di vederci tutti e dirò guarda questo è quello che ha detto il grande Maurizio di cui io ti posso dire ho una grande stima e ti ringrazio sai perché tu ci sei sempre e sono le persone come te che noi dobbiamo apprestare maggiormente perché sono coloro che tengono viva la nostra trasmissione la mia musica e tutto quanto guarda io immagino te che suoni in un balcone all'altezza di due tre piani perché non so dove abiti purtroppo non ci siamo mai visti lì e tu suoni suoni i canticchi eccetera magari anche l'ultimo disco che poi dopo magari nel saluto finale ci farai sentire e poi Diana è lì sotto dico oh ma cosa aspetti ma ho bisogno di un caffè io non posso non posso voglio un caffè e tu lo cali con un cestino col cavo di un cestino come si faceva una volta eh ti ricordi che una volta che si calavano le crescentine bellissimo beh l'immagine è bella l'immagine è tuttoresca eh da un sogno o una realtà mai dire mai mi piace mi piace molto ti piace e ci cantichi una situazione tua e poi ci salutiamo e purtroppo devo ma guarda io ma ci mancherebbe so che sei impegnato e poi ci mancherebbe altro l'unico problema è che non so come faccia di chiare qualcosa perché non ho una guitarra in questo momento sotto mano no no ma così a cappella come ti viene così e lo dedichiamo a Luigi Ferretti che è il patron dove ospita non solo Punto Radio non solo il Settegolding di Alcoveggio 49 ma a Radio Italia anni 60 e tutte le altre sue eh Situation perché non ha solo queste diciamo questi holdings no assolutamente no stavo pensando a cosa potrei farvi a cappella che possa essere possa essere eh eh stavo pensando che c'è una canzone che mi sarebbe perfetta però vabbè io in questo momento ti canto questa che sicuramente è la canzone che sto da un po' di tempo portando in giro fino a quando non concluderà questo album e quindi canto giochiamo mi hai fatto capire davvero che cosa vuol dire la felicità giochiamo indifeso in ogni tuo getto sincero si vede la tua ingenuità e poi ma avanti però ci vorremmo una chitarra per beccare l'esatta l'esatta tonalità il punto giusto esatto il punto giusto ed essere tutti uniti e quindi diciamo che la prossima volta se ve lo dici mi organizzo meglio con una chitarra anche se ovviamente telefonicamente non è mai facile guarda io non guardo ai copioni non guardo alle trasmissioni preparate a 15 giorni un mese ma guardo al live perché mi piace proprio l'improvvisazione io ci guardo molto questo è la cosa più vera è la cosa più bella hai perfettamente ragione ma anche noi sai quando andiamo in onda il mercoledì non c'è mica tanta preparazione ma andiamo agli altarini qui scopriamo gli altarini perché la gente non crede che gli speaker o dj o vj come anche tu che fai radio e televisione sia un giochino noi diamo anche l'anima perché ci sacrifichiamo anche in salute che magari vi dicono ma cosa stanno a fare questi ma che preparazione c'è dietro sì no allora per molte cose è così quando vai su un palco anche che scuoni che tanti cioè non è che ci vai così e via c'è uno studio dietro se vuoi che tutto riesca al meglio e quindi molte volte come ogni cosa quando vediamo o sentiamo o ascoltiamo radio concerti eccetera chi è lì è perché lo sta facendo dietro una preparazione hai ragione bene io ti ringrazio per essere rimasti con noi un forte abbraccio sabato 14 marzo il weekend si accende si illumina con te eh caro Gerasole Cristallino grande cantante emergente sperando di vederti prima o poi non solo alle prime porti di Sanremo ma anche al festival della canzone europea eh prima o poi io non ho queste ambizioni a me basta sinceramente portare avanti quello che è la mia attività quello che è la mia passione le mie canzoni e poi non importa se fanno due persone o cento ad ascoltare io sono già contento così grazie mille alle ore 16 grazie alle ore 16 un abbraccio a tutti sì prego prego no un abbraccio a tutti a tutti colori che ci stanno ascoltando ah in tutto il mondo sei in tutto il mondo in tantissime piattaforme anche su TuneIn su Youtube ovunque bellissimo allora salutiamo tutti colori che in questo momento appunto ci stanno ascoltando e grazie Maurizio come sempre perché fai della diciamo della musica di queste cose della radio eccetera una passione vera una passione vera grazie a te di esistere ciao 16 e 20 minuti primi 59 secondi e 36 decimi sabato 14 marzo ringraziamo Manuel Auteri eh ovviamente non l'abbiamo detto eh dico bene eh sì Manuel Auteri beh hai detto tu l'hai detto bene perché molti dicono Auteri invece no è Auteri eh attenzione e come possono contattarti ascolta ecco diciamolo come possono contattarti allora www.manuelauteri.it da lì c'è tutto ci sono i social c'è tutto quello io sono molto attivo su Facebook lo dico sarò un po' datato però mentre mentre ci sono anche su Instagram manuelauteri eh underscore eh official quindi mi trovate però ecco eh lo dico perché io sarò un po' abbattato ma mi dà più possibilità di espressione quindi posso mettere un concetto e scriverli più qui Manuel Auteri pagina privata pagina archivista tutto grazie ancora grazie ancora i migliori saluti e alla prossima ciao 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 grazie ancora a te ciao ciao ed era lui invece noi dobbiamo chiudere da letteralmente radio una radio con tante radio dentro Maurizio DJ studio 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 di studio buon pomeriggio buonasera buonanotte dipende quando ci ascolterete io vi ringrazio da letteralmente radio una radio con tante radio dentro studio zero qui da ferrara dallo studio zero rete ferrara di letteralmente radio ovviamente poi abbiamo studio uno di Bologna studio due da Enna Sicilia studio tre Cristina da Firenze studio quattro da Sanremo dove c'è Elide e Gabriele no studio quattro scusate ecco l'ho detto che sono emozionato ma non è possibile non faccio mai nessun errore studio quattro da Sanremo scusate dove c'è Mauro studio cinque Elide e Gabriele da Montebaldo Verona e va bene dobbiamo chiudere lo so mi fanno insegni Peppino Spazzacamino il nostro regista è cocco insieme mi dicono che è tardissimo lo so doveva essere solo dieci minuti ma va bene è andato così ma per un grande è un grande cantautore ci sta anche questo la linea ritorna alla rete mondiale grazie a tutti e alla prossima buon proseguo con i nostri programmi letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto di posta elettronica di posta elettronica di posta elettronica di posta elettronica www.letteralmente.info letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com direttamente al cuore www.letteralmente.info